Il Natale come partecipazione all'amore di Dio, ancora prima, il Natale come richiesta del desiderio di riamare l'amore che ci ama da sempre, un amore totale e vero. Ma, come dicevano i pari della Chiesa, io credo che oggi, più di ieri, sia necessario un Natale dell'anima. Che cosa intendiamo quando diciamo il Natale dell'anima? Che cosa penso, che cosa ha causato in me questa espressione? Cioè, il Natale, per essere vero, deve riprendersi la dimensione mistica. Sì, il Natale dell'anima deve essere un Natale mistico, che non è solo il Natale dei Santi, no. Cioè, il Natale capace di far entrare, di creare meglio, Intimità tra il bambino, il Dio fattosi uomo, e me. Questo Dio che, appunto, fa anche delle volte, tra virgolette, violenza alla mia anima, pur di abitarla, pur di abitare dentro di me. Cioè, è importante riamare l'amore che si fa carne, l'amore che si fa storia, riamarlo nella nostra quotidianità, attraverso una relazione vera, autentica. Ecco perché, quando diciamo che il Natale, per noi credenti, è ogni giorno, vogliamo dire proprio questo. Che per noi credenti, Natale è una relazione quotidiana, intima, autentica, vera, con il Signore. Se Natale non è la nascita di Cristo in me, che Natale è? Voglio leggervi alcune brevi parole di un pare della Chiesa, Origene, il quale, a proposito di questo Natale mistico, dice Che Giova a me, che Cristo sia nato una volta a Betlemme, se non nasce di nuovo per fede nella mia anima? Gesù, se non nasce, dice Origene, per fede nella mia anima. Gesù, se non nasce dentro di me, questo Natale non ha senso. Questo Natale non Giova a nulla. Ecco, ci stiamo avviando verso la conclusione di questo anno. E sarebbe bello chiederci quando, come, dove, in quale occasione il Signore è nato dentro di me. Nella malattia, nella sofferenza, nella mancanza di lavoro, in un amore finito, in un amore tradito, in tante e mille preoccupazioni, ma anche in tante, tante, tante gioie che comunque dalla vita noi riceviamo. Le gioie quelle vere, quelle autentiche, le gioie del cuore. In quest'anno, quando veramente il Signore è nato in me? E quante volte io l'ho fatto nascere? Quante volte io l'ho fatto rinascere negli altri? E voglio concludere sempre con una piccola riflessione che ci fa capire il Natale mistico di Padre Ranino canta la Messa. Durante le tre messe che celebriamo, il giorno di Natale, emerge questa caratteristica mistica del Natale. e dice, la prima Messa, che in genere è quella della notte, è la commemorazione della nascita eterna del Padre. La seconda è la commemorazione, la celebrazione della nascita storica da Maria. E la terza è la nascita mistica nell'anima. Quindi, Dio che nel Figlio si fa uomo, Dio che nasce in Maria, e per Maria, è Dio che deve nascere, per opere dello Spirito Santo, dentro di me, dentro la tua anima. Ci vediamo domani, Paripio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Grazie a tutti!